bene oggi facciamo vedere come sostituire la serratura di una porta capita spesso che la serratura va sostituita anche per evitare che ci siano persone che abbiano una chiave in più e quindi per intrusioni scomode ogni tanto è facile che qualche chiave possa finire nelle mani sbagliate adesso noi sostituiamo la serratura di questa porta bene non è difficile fare questa operazione ma bisogna eseguire alcuni passaggi si apre la porta si svita anche quest'altra vite ecco qua poi c'è questa vite centrale che praticamente collega proprio la serratura vedete a questo punto come vedete la serratura se ne viene bene arrivato a questo punto come vi dicevo si prende la serratura nuova si inserisce nella parte interna nella sua guida si fa un po di gioco questo punto basta fare un po di gioco e gioco è fatto qua procurate una chiave a brucola più piccola un pezzo di ferro bisogna di centrare ecco centrate il foro e si avvita fino a serrare completamente la vita si mettono le altre due vite di serraggio un'altra vite di serraggio si incendono poco poco ecco qua si stringe bene e gioco è fatto bene adesso facciamo una prova se tutto è andato per il verso giusto come vedete la chiave perfetto vediamo se la porta si chiude vediamo se la porta si chiude ancora vedete ok alla prossima occasione da michele expert cropparati provincia di cosenza vedete Grazie a tutti.